Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La data di inizio del Movimento di Liberazione in Italia è convenzionalmente fissata all'8 settembre 1943. In quel giorno veniva reso noto l'accordo già raggiunto nei giorni precedenti fra il generale Castellano, incaricato di trattare con gli alleati, e il suo parigrado americano, Bader Smith. In realtà i tedeschi, che già sapevano delle trattative in corso, avevano aumentato la loro già alta diffidenza nei riguardi degli italiani dopo il 25 luglio, il giorno dell'arresto di Mussolini. E si erano già resi responsabili di alcuni crimini nei confronti della popolazione civile durante il ritiro dalla Sicilia dopo lo sbarco alleato del 9 luglio. Il 12 agosto fanno strage di civili a Castiglione di Sicilia e il 6 settembre cannoneggiano Rizziconi, grosso centro pianigiano, provocando 17 morti e 56 feriti. E' in questo contesto che maturano i primi deliberati atti di sabotaggio contro l'esercito tedesco. Sempre nella piana di Giorgio Tauro, a Tavianova, il 25 agosto 1943, viene fucilato il socialista libertario Cipriano Scherfow e accusato di aver danneggiato le linee del telegrafo nazista. L'8 settembre coglie del tutto impreparate le forze armate italiane, sia in patria che all'estero. Ma non per questo mancano i tentativi di reagire all'attacotanza tedesca. A Roma, in particolare, gruppi di antifascisti si uniscono ai militari a Porta San Paolo per impedire l'avanzata dei tedeschi lungo la via Ostienza. Tra questi uomini spicca Giuseppe Albano di Gerace che ispirerà la figura del Gobbo nel film di Carlo Lizzani. Analogo riconoscimento cinematografico avrà nel film Roma città aperta Roma città aperta del regista Rossellini Teresa Gullace di Cittanova, uccisa dai tedeschi ancora a Roma il 3 marzo del 1944, mentre tenta di avvicinarsi al marito che è stato fatto prigioniero. Tra i partigiani della capitale figura lo studente marinaio Ettore Arena di Catanzaro. Arrestato in dicembre, sarà fucilato insieme ad altri compagni della sua formazione politica Bandiera Rossa a Forte Bravetta il 2 febbraio del 1944. Ma è all'estero che si registrano gli episodi di maggiore esistenza dell'esercito italiano ai tedeschi. Un'intera divisione che opera nel Montenegro, la Venezia, agli ordini del generale Oxiglia, darà origine alla divisione Italia-Partigiana Garibaldi che continuerà la guerra al fianco dei partigiani jugoslavi sino a quando non sarà rimpatriata a Bari nel marzo del 1945. Numerosi sono gli ufficiali e i soldati calabresi che sono inquadrati in quella divisione e che vi perderanno anche la vita. Ed è sull'isola greca di Cefalonia che si svolge la battaglia più sanguinosa tra gli ex alleati. Migliaia di uomini della divisione Acqui vengono massacrati dai tedeschi ai quali hanno rifiutato la resa. Un elenco parziale di 64 caduti calabresi si trova nel libro di Rocco Lentini nel recinto dell'Inferno. In Italia, frattanto, l'esercito tedesco risale alla penisola per attestarsi lungo la linea difensiva Gustav che corre dalla foce del fiume Garigliano sul Tirreno alla città di Ortona sull'Ariatico. Il re è fuggito da Roma insieme al maresciallo Pietro Badoglio a quale ha affidato l'incarico di formare il nuovo governo che verrà costituito inizialmente a Brindisi e poi trasferito a Salerno. È il cosiddetto Regno del Sud a causa della limitazione territoriale cui è costretto ma non c'è dubbio che esso rappresenti la continuità giuridica con il Regno d'Italia. Non può invece rappresentarla il governo nato a Salò sul lago di Garda ad opera di Mussolini che era stato restituito e che un gruppo di paraduditi tedeschi ha liberato dalla prigione di campo imperatore sul Gran Sasso. In questo breve periodo poche settimane necessarie all'esercito tedesco per raggiungere Monte Cassino anche nelle regioni mediali si sviluppa la resistenza al nazifascismo. Matera in particolare insorge il 21 settembre e vi perdono la vita 26 persone. A Lanciano, nel Chietino negli scoltri perde la vita Giovanni Calabrò di Palizzi ma l'episodio più noto è senza dubbio quello delle quattro giornate di Napoli. A lungo considerato come un moto spontaneo di ribellione è ormai largamente acquisito che quelle giornate furono soltanto l'epilogo di una lunga, maturata opposizione della capitale del Mezzogiorno a fascismo. Nel corso degli scoltri cadono tra gli altri Mario Greco di Catanzaro Antonio Rena di Cosenza e Salvatore Militano di Palmi. Il governo Badoglio divenuto ora cobelligerante al fianco degli alleati partecipa soprattutto con la sua aviazione alle operazioni militari sui diversi fronti di guerra. Il sergente pilota Antonino Cannatà di Laurana di Borrello muore nel corso di un'operazione di rifornimento ai partigiani che operano in Jugoslavia. E Mario Martire di Pedace ufficiale di collegamento con il comando alleato viene arrestato a Venezia e poi deportato nel campo di Mauthausen dove morirà il 17 febbraio 1945. Una lettera di Mario Martire indirizzata ai familiari prima dell'arresto è senza dubbio una delle più alte testimonianze di amor patrio e di accusa al fascismo che ci siano pervenute dalla resistenza. E invece del servizio informazioni militari Edoardo Angotti di Nicastro che rimane ucciso il 1 marzo 1945 a Castelnuovo in provincia di Pavia. Calabrese di adozione è anche il cosiddetto partigiano nero Giorgio Marincola figlio di un maresciallo dell'esercito di Pizzo in servizio in Somalia che lo ha portato con sé al ritorno in patria. Giorgio parteciperà alla resistenza assumendo il nome di battaglia Mercurio e trasportando armi e rifornimenti ai partigiani per conto dell'intelligence militare britannica. Troverà la morte a guerra ormai conclusa il 4 maggio 1945 in Trentino ad opera di una colonna di SS in ritirata. Le prime vere e proprie bande partigiane si formano in Piemonte e qui che hanno trovato iniziale rifugio i soldati della quarta armata a rientro dalla Francia al comando del generale Operti. Ed è ancora qui che già l'11 settembre quindi pochi giorni dopo l'armistizia l'avvocato cuneese Duccio Galimberti insieme a un gruppo di militanti del partito d'azione si porta in montagna e costituisce Italia Libera che sarà il nucleo fondante il primo embrione delle future divisioni giustizia e libertà. Nella prima di queste divisioni trova posto Roccolisi di Cannitello che si ammalerà molto gravemente durante i 20 mesi di resistenza e morirà subito dopo la fine della guerra. Tra i primi militari a scegliere di lasciare le caserme per portarsi in montagna e il veneziano sottotenente Ignazio Vian al suo fianco sin da subito è Rosario Pontieri di Verzino che rimarrà ferito durante un conflitto a fuoco e morirà il 10 giugno 1944 a Peveragno in provincia di Cuneo. La sua salma è custodita nel grandioso cimitero partigiano di Chiusa di Pesio a fianco a quella del suo comandante Ignazio Vian A fine anno resta ferito anche Carlo Siccoli di San Lucido che va seguito il capitano piemontese Carlo Carboni morirà all'ospedale di Cuneo il 29 febbraio. Più ad est ancora in Piemonte Sebastiano Speranza di Taverna operaio emigrato a Pinerolo ha scelto assieme al fratello Salvatore di aderire alla resistenza militando nella formazione del comandante Bluter. Entrambi saranno catturati e trasportati a Mauthausen si salverà soltanto il fratello Salvatore. Nel biellese è catturato il militare Basilio Bianco di Grimaldi che verrà fucilato a Biella in piazza San Cassiano il 22 dicembre e nella stessa città è arrestato Gaetano Mellino di Crotone commerciante di tessuti residente a Genova e che fa parte del comitato di liberazione nazionale della cittadina piemontese. Inviato a Mauthausen anche lui vi perderà la vita il 29 marzo 1945. Le valli di Lanzo che si trovano a poi chilometri della città di Torino ospitano fin da subito gruppi di militari in fuga dalle caserme. Tra i primi a portarsi in montagna è lo studente universitario e ufficiale di complemento dell'aeronautica Giuseppe Rie di Celico che ha preso nome di battaglia tenente Peppino. In Piemonte Peppino ha un fratello maggiore Ugo già noto in Calabria per la sua attività antifascista ed è per questo che si è trasferito a Torino trovando impiego nella fabbrica della Lancia. È tra i promotori del soccorso rosso ed è arrestato e riesce a evadere dalle carceri nuove divenendo membro del comitato di liberazione nazionale di Ciriè nel Canavese dove è sfollato insieme con la famiglia. Peppino si trova a Piano Audi una località delle valli di Lanzo quando un attacco tedesco il 3 ottobre costringe il gruppo di militari che vi ha trovato in sistemazione a sciogliersi e a dare vita a più formazioni. La più consistente è quella guidata da un sotto ufficiale di Marina Nicola Prospero detto Maggiore Nicola che si porterà sopra l'abitato di Forno Canavese. Peppino tenente Peppino invece con 30 uomini prende contatto con il gruppo comunista che opera in Val di Lanzo e divene capo di un distaccamento partigiano che ha per nome Spartacus. Il 17 febbraio 1944 cade in un'imboscata tesali dai fascisti in località Ponte Scotto nel comune di Rivarolo Canavese. A tradirlo pare sia stata una delazione forse degli infiltrati ma non si può escludere che tra la causa della sua morte non vi sia la forte competizione e contrapposizione in atto con un altro comandante partigiano della zona Mario Costa di Massa detto Diavolo Nero. Tra gli uomini che hanno seguito invece il Maggiore Nicola si trova Saverio Papandrea di Monteleone l'attuale Vibo Valencia la sua figura è ancora oggi ben viva dalla popolazione di Forno la via che porta al municipio di quella città una delle principali della città porta il suo nome è infatti l'eroe di una delle prime battaglie in linea della storia della resistenza. E il 7 decembre quando i tedeschi affiancati dai miliziani fascisti attaccano il gruppo partigiano che si è attestato sul Monte Soglio il Maggiore Nicola tenta inizialmente di resistere grazie al vantaggio offerto dalla posizione ma la sproporzione delle forze in campo è abissale un centenario di partigiani non può resistere non può reggere all'urto di duemila uomini dotati per di più di artiglieria pesante. Il Maggiore Nicola decide pertanto di portarsi verso la cima della montagna mentre un gruppo di 18 uomini resta per coprire la ritirata e tra questi uomini è Saverio. Resterà al suo posto di combattimento per ultimo dopo aver esortato i suoi compagni a fuggire finché non sarà colto alle spalle e gravemente ferito con le ultime forze si lancia nel burrone sottostante spezzando l'arma che ha con sé verrà raggiunto dei tedeschi e finito con uno sgabbello da stallo. E' stato insignito dalla medaglia d'oro al valore militare alla memoria. Grazie. Grazie.